Io faccio un saluto al tavolo, cioè i miei, quelli un po' più storici, non a Marco Di Pasquale, che è questo da qua, Don Antonio Spanita, Salvatore Di Matteo. Parlavamo, noi ci confrontiamo, parliamo sempre di pizza, ovunque ci troviamo, siamo al tavolo e si parla di pizza. Di pizza, come era la pizza nostra, qual è la pizza di oggi, quale sarà il futuro. Quindi finiremo la nostra giornata in questo evento che si conferì per essere speciale, perché è fatto da persone estremamente per te. Io dico che tutto quello che è fatto fuori dal cerco mediatico napoletano funziona alla grande. E questo è un evento che è fuori da un cerco. Qui ci sono persone che le cose nella vita le fanno, non amo persone che le cose le raccontano, ma preferisco quelli che le stanno. Quindi l'applauso va fatto a voi tutti, perché se siete qui siete la dimostrazione di rinuncia e di affetti, ha un sacco di tempo che potrebbe dedicare a se stesso per il proprio lavoro. Quindi secondo me l'applauso ve lo dovete fare voi a voi. Grazie, grazie. Grazie a tutti.